Alle elezioni amministrative dell'8 e del 9 giugno, il Comune di Montesilvano schiererà due candidati alla carica di sindaco. Lo sciente Ottavio De Martinis e lo sfidante Fabrizio D'Addazio, per un totale di otto liste e un esercito di 169 candidati consiglieri. Quattro le liste nella coalizione a sostegno del candidato di centrodestra Ottavio De Martinis. Forza Italia Montesilvano in Comune, Fratelli d'Italia, Lega e la lista civica Montesilvano Sceglie, tutte con 24 candidati ciascuna. In corsa nella coalizione anche l'Udc, che aveva presentato una lista di 17 consiglieri, costretta però poi a ritirarsi all'ultimo minuto dalla competizione elettorale per mancanza di documentazione, non senza ribadire il pieno sostegno alla candidatura di Ottavio De Martinis. Nello schieramento opposto a sostegno di Fabrizio D'Addazio, che si presenta come candidato del Campolargo, c'è una coalizione di altre quattro liste. Partito Democratico con 22 candidati, Movimento 5 Stelle con 16, Alleanza Verdi-Sinistra con 17 nominativi e la lista civica Fabrizio D'Addazio Sindaco, che schiera 18 papabili consiglieri. Nel centrodestra sono in tutto 96 candidati in corsa per De Martinis Sindaco, 73 invece i sostenitori di D'Addazio. Tra questo esercito di 169 candidati dovranno scegliere gli oltre 44.000 elettori di Montesilvano, più precisamente 44.227 gli eventi diritto chiamati alle urne per la precedente tornata elettorale delle regionali, a fronte di una popolazione di 54.370 abitanti censiti a gennaio 2024. I dati precisi saranno comunque aggiornati nei prossimi giorni dagli uffici comunali preposti. Questa mattina, intanto, alle 12 in punto, si è chiusa la porta della sala giunta, dove il segretario comunale e la sua squadra erano impegnati a raccogliere liste e candidature e a vagliare firme e documenti. Nelle 52 circoscrizioni del comune di Montesilvano, l'8 e il 9 giugno, gli elettori saranno chiamati a rinnovare le cariche di sindaco e consiglieri comunali senza alcun turno di ballottaggio, come di norma previsto invece per i comuni con una popolazione superiore a 15.000 abitanti. Essendo infatti una sfida a due tra Ottavio De Martinis e Fabrizio D'Addazio, basterà un unico torno elettorale per capire a chi, gli elettori di Montesilvano, accorderanno la propria fiducia.